Beh, innanzitutto benvenuti a tutti, grazie per l'adesione, a questo punto anche numerosa auspico e suppongo che l'argomento insomma sia susciti curiosità e interesse. Parliamo di ransomware quindi oggi, di cosa si tratti? Probabilmente molti di voi già sono al corrente. In breve, è una categoria di malware, virus magari è un termine più noto, ai meno addetti ai lavori, ai non addetti ai lavori, i quali una volta eseguiti sul computer o sul server della vittima nel giro di poche ore rendono tutti i dati presenti sul sistema o, peggio, anche quelli raggiungibili magari nella rete del tutto inservibili attraverso la crittografia degli stessi, fondamentalmente. Quando il virus, quando il ransomware ha terminato il lavoro, poi viene chiesto un riscatto, ransom in inglese appunto, che va pagato eventualmente in una valuta virtuale, non tracciabile, tipicamente il bitcoin, un termine che avrete sentito più di una volta, perché gli stessi dati siano resi nuovamente fruibili e a quel punto disponibili al proprietario. Vorrei fare una premessa, questo webinar, il cui approccio è espressamente e volutamente divulgativo, quindi molto poco tecnico, vuole essere lo spunto e darvi l'opportunità per riflettere su un problema serio, perché possiate ovviamente comprenderne la portata e, una volta diventati consapevoli della situazione, magari adottare dei comportamenti virtuosi, delle prassi operative adeguate, al fine fondamentalmente di prevenire un danno, che a volte può anche essere gravissimo, come vedremo. Molte persone ignorano la portata potenziale di questo tipo di minacce. Mi riferisco ovviamente agli utenti finali a cui è rivolto questo webinar, quindi il mio linguaggio e il tipo di argomentazioni che porterò si rivolgono all'utente finale, non a un pubblico tecnico, ok? Il carattere è divulgativo. E quindi fondamentalmente parliamo di criminali oggi, di delinquenti, ladri, truffatori, di crimine vero e proprio, crimine informatico. Entriamo nel merito a questo punto. Certamente chiunque di voi ha abbastanza chiaro, suppongo, il concetto di criminale e la mente di ciascuno, supportata dalle esperienze, riesce magari a inquadrare facilmente una qualunque delle fattispecie che descrivo in questa slide. Qui parliamo di truffe, di rapine. Tutti proviamo di sicuro qualche timore, se non il terrore, all'idea che un ladro magari entra in casa, o di un rapinatore che pistola la mano e rompe in banca, faccia pulizia di soldi in cassa, magari sparando in aria, se non a qualche povero malcapitato. E proprio a causa di questi timori, della frequenza con la quale certi episodi criminosi si sono verificati nel corso del tempo, che le persone mano a mano hanno codificato negli anni delle pene più severe, adottato magari delle contromisure, dei deterrenti sempre più efficaci, resistenti, idonei più o meno a proteggere i beni a rischio, potenzialmente. E quindi vediamo, no? Cancelli, cani da guardia, telecamere di sorveglianza, sistemi di allarme, porte blindate. La proprietà, ovviamente, tutti noi sappiamo che è sacra, è inviolabile, e chiunque di noi farebbe qualsiasi cosa per proteggere questa proprietà, ma siamo sicuri che nelle nostre case o in banca siano custoditi i nostri beni più importanti? Quello che cerco di fare adesso è offrirvi uno spunto di riflessione al riguardo, perché secondo me la consapevolezza di un problema già presente, sebbene ancora potenziale, e dunque il rischio, quando ancora non si è concretizzato in un dramma, è il primo passo per imboccare la strada di un processo virtuoso di crescita, di miglioramento, ovviamente è finalizzato a ridurre e a limitare quel rischio. Guardando una fotografia del genere, l'idea di un ladro che violi il nostro appartamento, che frughi negli armadi, nei cassetti, borse, casseforti, ci spaventa a prescindere, di sicuro. Chi tra noi, tra i presenti, ha avuto l'esperienza magari di vivere un furto in un appartamento, sa di che cosa si parla. Certamente si tratta di una relazione naturale, atavica, siamo d'accordo, esaminiamo però un attimo la situazione, cercando, come dire, di staccarci dal contesto. Il malvivente, nello specifico il ladro lì col piede di porco, intanto sta rischiando moltissimo. Lui, la sua incolumità in primis, dato che, per esempio, entrando in casa potrebbe trovare resistenza armata, cani da guardia, magari non qui, ma tipicamente negli Stati Uniti, immagino, dove tutti hanno un'arma in casa, il rischio di violare una proprietà è molto alto. Per poi riuscire a sottrarre cosa? Qualche gioiello, dei contanti, orologi, magari qualche quadro di valore, non lo so, immaginiamo cosa c'è nelle case di ciascuno di noi. Nulla, mi viene da dire, che in fondo non si è recuperabile con una banale assicurazione contro il furto. Ci sono tra noi oggi anche degli amici che si occupano proprio di questo ambito. Ovviamente, assicurazione che va stipulata prima che accada il fattaccio, che costa poche centinaia di euro all'anno, tipicamente, un'assicurazione contro il furto. E quindi il nostro terrore, tutto sommato, è giustificato? Ora, riflettiamo invece per un attimo su un elemento che è fondamentale in questa mia presentazione, in questo webinar. Qual è oggi il valore economicamente più rilevante che abbiamo? Perché dovremmo preoccuparci di qualche gioiello, magari, o del portafoglio, o dell'ultimo smartphone, sottrattoci dal classico topo d'appartamento? A mio avviso, ma non solo mio per la verità, sono i dati a rappresentare la pietra angolare, se posso definirla così, di questa vicenda. Proviamo a chiederci, per esempio, quali conseguenze patiremmo se, invece che il semplice valore dello smartphone rubato, il malvivente ci sottraesse ed utilizzasse tutto quello a cui lo smartphone ci dava accesso. Messaggi di posta, contatti, siti web di ogni genere, da noi visitati, con le relative password memorizzate, file che archiviamo nel cloud, chat con gli amici, le chat di WhatsApp, con i colleghi, con le amanti. Quanti problemi potremmo avere? Alla luce di questa considerazione, credo che i 500 euro del valore del telefono siano ben poca cosa con fronte all'ipotesi che ho ventilato. Cioè, riusciamo magari a spostare un po' l'attenzione su un altro elemento, che è quello dove vi voglio poi portare. Perché? Perché ognuno di noi oggi vive una vita che è legata alle tecnologie informatiche e che è legata ai dati. Quindi la domanda è quanto valgono questi dati? Dobbiamo essere in grado di valutarli, di monetizzarli, di capire che importanza hanno per noi, per il nostro lavoro. Perché? Perché oggi, scusate, attivo il puntatore. Ok, così si dovrebbe vedere il mio puntatore. Perché oggi le nostre vite sono legate, fondamentalmente, se guardate queste icone, sono legate a una quantità enorme di dati che vengono elaborati dai computer, dai server, e che sono digitalmente memorizzati in un qualche luogo, fisico, virtuale che sia, non importa. Pensiamo ai dati. Vedete queste icone social media, documenti che portiamo magari in una borsa, contatti dei nostri clienti, fornitori, informazioni di qualunque tipo. Allora, immaginiamo per un attimo uno scenario che è sicuramente abbastanza inquietante, ma io voglio che sia tale, in cui improvvisamente non avessimo più la disponibilità di quei dati. Documenti, PDF, anagrafiche, fatture, documenti di trasporto, basi dati, del gestionale, qualsiasi tipo di informazione, contatti, tutto quello che avete archiviato nel PC, nello studio, sui server dell'azienda, sul telefono, e mi limito, nel fare questo elenco, a una parte minima di un insieme che poi vedremo è molto più articolato. Allora, ipotizziamo che domani mattina qualcuno ci sottragga tutto, lasciando magari per contro l'ufficio intatto, quindi nessuna effrazione, nessuno che sfonda una vetrata o che distrugge mobili o rompe muri per rubare chissà cosa, anzi, magari ci lascia anche i soldi del fondo cassa in cassaforte, ma senza più alcun dato a nostra disposizione. Immaginiamoci questo scenario. Ciascuno di noi gestisce, produce ovviamente dati diversi in funzione del ruolo che svolge nell'azienda, nella propria vita, nel proprio ambito di competenza, però il senso di questo mio stimolo è, diciamo, estendibile a qualsiasi individuo, quindi niente più parcelle, niente più documenti di trasporto, anagrafica clienti e fornitori, non so, la contabilità svanita, il CRM magari con cui gestisco le trattative con i clienti, bloccato ed inutile, le trattative svanite, il gestionale della produzione magari di un'azienda che gestisce appunto una produzione o le macchine a controllo numerico, ferme, PDF, file di Word, file di Excel illegibili, le fotografie magari di un fotografo sono inservibili, cartelle cliniche del poliambulatorio sparite, degli ospedali, progetti CAD che non si aprono più e via via in un'escalation che può arrivare a uffici amministrativi che chiudono, le stazioni ferroviarie che si fermano perché non si sa più i treni su quali binari devono transitare, a che ora e via via, gli aeroporti fermi per gli stessi motivi. Vorrei che fosse chiaro quella che è la portata di un problema legato ai dati e vedremo a brevissimo, non è fantasia mia di questo pomeriggio, assolutamente, poi lo andiamo a suffragare con degli elementi oggettivi. Ecco che, credo, diventi tutto un po' più chiaro e diventi più chiaro dove voglio andare a parare. Perché armarsi di piedi di porco come il ladro della slide precedente o di una pistola per sfondare una porta e rubare un Rolex o qualche altro oggetto di valore quando in realtà il vero valore è un altro e le vittime potenziali di quest'altro genere di crimine ormai sono 5 miliardi di persone, tante quante sono gli utenti connessi a internet fondamentalmente. Allora entriamo più nel merito e cerchiamo magari di passare dalla teoria alla pratica. Una campagna massiva di mail, di phishing, termine che conoscete tutti, no? Da pesca. contenenti magari dei link o degli allegati potenzialmente dannosi può contare su centinaia di migliaia di vittime potenziali. In alcuni casi milioni di utenti raggiunti da un messaggio di questo tipo. E quando i numeri sono di questa portata la possibilità che qualcuno abbocchi aumenti in maniera esponenziale, chiaramente, no? Quante email ricevete ogni giorno? Quante volte avete il dubbio che un messaggio possa essere attendibile o meno? Si chiama phishing non a caso. Anche chi tra noi non è un appassionato di pesca capisce subito che gettare un amo in un nutrito banco di pesci rende ovviamente la pesca decisamente più facile e fruttuosa per il pescatore. Il problema a questo punto è capire chi diventa il malcapitato pesce che clicca col mouse e a bocca. E quindi nell'epoca di internet quella che noi stiamo vivendo nell'epoca in cui i dati rappresentano tutto sostanzialmente la criminalità evolve. Il delinquente non si arma più di pistola o di piedi di porco e cerca di mettere le mani su un valore monetizzabile molto più importante. Ci sono chiaramente diversi livelli di approccio al furto in questo caso esattamente come ci sono diversi livelli per il delinquente tradizionale il ladro tradizionale può scegliere se scippare l'anziana signora all'uscita dalle poste bottino magro di sicuro ma un colpo facile o se puntare a fare una rapina alla Banca d'Italia difficoltà sicuramente massima ma magari anche massimo profitto. Per i cyber criminali c'è la stessa identica scelta puntare a sistemi super protetti per magari mettere segno il colpo del secolo o sparare nel mucchio a quel punto accontentarsi di un bottino più facile. Il taglio divulgativo che ho scelto è rivolto appunto come dicevo all'utente finale e non ai tecnici e allora mi consente di semplificare e banalizzare molto l'argomento sicurezza informatica mutuando magari un parallelo tra la criminalità analogica visto che siamo comunque informatici usiamo anche dei termini di questo tipo e la criminalità digitale. In entrambi i casi ci sono ed esistono gli attacchi cosiddetti mirati o gli attacchi generici. Fort Knox questa base militare che è il deposito aureo statunitense potrebbe magari tradursi come esempio per capire che cos'è un sistema di server altamente difeso e difficilmente violabile nell'ambito del crimine informatico. Per contro un supercondominio con centinaia di appartamenti potrebbe essere magari più allettante per il ladro che punti al colpo facile e le porte di questi appartamenti offrono molta meno resistenza di quello che è la difesa militarizzata di Fort Knox e in questo caso parliamo magari dell'archivio dati più o meno rilevanti che vengono magari conservati alla buona da utenti sprovveduti o non debitamente informati. Adesso facciamo un gioco vi invito proprio a fare un gioco di ruolo non so se sapete di cosa si tratta quando si impersonano appunto personaggi di fantasia che non corrispondono alla realtà ma di cui andiamo poi a interpretare e a vivere le gesta allora noi non siamo evidentemente dei ladri e non entriamo nelle case altrui per rubare beni o valori o almeno mi auguro che la gran parte di noi non lo sia poi ognuno è libero molti non lo sono per via di un'etica morale che lo impedisce qualcuno perché si tratta di un'attività magari rischiosa e complicata e la consapevolezza delle conseguenze è sicuramente un deterrente fondamentale altri infine non hanno bisogno di rubare supponiamo però per un attimo che le leggi che conosciamo non siano improvvisamente più in vigore quindi è questo il gioco che vi invito a fare supponiamo che impossessarsi dei valori altrui diventi molto più facile percorriamo magari immaginandocelo questo lungo corridoio c'è una slide che ci aiuta in questo immaginiamo di camminare lungo questo corridoio di un condominio immaginario e immaginiamo di bussare a tutte le porte una dietro l'altra no toc toc vediamo se ci risponde qualcuno fino a che ne troviamo una aperta cinque aperte cento aperte ecco che ne troviamo una aperta entriamo e facciamo piazza pulita nessuno lo saprà mai nessuno saprà mai che siamo stati noi nessuno ci troverà mai lo faremmo? prenderemo tutto quello che c'è? allora sappiate che ci sono molte persone pronte a farlo e l'industria del crimine informatico in questo senso cresce in maniera esponenziale i cyber criminali sono sempre più numerosi e incredibilmente sono alla ricerca di personale da impiegare in questa in questa azienda organizzata lo vedremo tra pochissimo io stesso ho ricevuto un'offerta di lavoro da questo punto di vista dopo vi faccio vedere una testimonianza ad ogni modo osservate la foto le porte di questo immenso condominio molti tra coloro che sono presenti a questo evento e vi assicuro che io stesso ho fatto una verifica prima di entrare in questa in quest'aula webinar inconsapevolmente e loro malgrado sono appartamenti aperti sono già appartamenti aperti e là fuori c'è una grandissima quantità di gente a caccia di guadagni molto facili non tracciabili e ha speso altrui recentemente uno di questi cacciatori mi ha detto it's not you it's just business è solo una questione di affari in questo ambito esistono ovviamente figure che diventano delle vere leggende queste fotografie che vedete sono hacker famosi sono leggende nel loro ambito li vediamo chiaramente in televisione dopo che li catturano ma a distanza di anni e parliamo di persone con abilità straordinarie che hanno violato magari sistemi di sicurezza impenetrabili accedendo a dati segreti sottraendoli magari divulgandoli che poi assurgono agli onori delle cronache per le loro imprese che vengono definite epiche magari hanno scontato qualche pena più o meno lunga e dopo sono stati tutti assunti da colossi dell'informatica da istituzioni governative quando non direttamente da università e via dicendo il problema è che altri invece sono mossi da uno scopo unico il denaro quindi noi dobbiamo fare i conti con quelli che arrivano a bussare alla nostra porta sperando di trovarla aperta ed è attenzione una questione di tempo non è una possibilità si tratta solo di sperare che a noi non succeda fino a quando non saremo pronti a far fronte a un evento del genere quindi non è una ipotesi è una certezza ok lo dicono le statistiche è un po' come quando decidiamo di installare una porta blindata gli allarmi intelligenti le videocamere farlo dopo che abbiamo ricevuto la visita dei ladri lascia molto la mano in bocca magari funge da deterrente per nuovi ipotetici tentativi ma avremmo ricomprato gioielli televisore la borsa di Gucci ecco nel caso del cybercrime farlo dopo per alcuni di noi per alcune vittime potrebbe non servire più perché magari il dato che rappresentava il nostro valore più importante non torna disponibile non lo possiamo comprare se non diciamo a fronte di esborsi molto importanti e per bussare alla vostra porta quella famosa porta che non dobbiamo far trovare aperta il sistema i sistemi sono tantissimi il più semplice ovviamente passa dalla posta elettronica ma non è l'unico assolutamente basta una disattenzione un click avventato il click compulsivo di cui soffrono tutti gli utenti ed ecco che le porte di cui parlavo quelle del grande condominio che rappresentiamo tutti si spalancano e diamo accesso alla nostra casa virtuale piena di dati e questo in periodo di Covid 2019 Covid-19 visto che questo è l'anno dello smart working per l'esigenza di lavorare da casa o comunque da remoto se da un lato ci ha fatto scoprire come la tecnologia informatica offre delle opportunità e una flessibilità insperata chi sarebbe in grado di tornare indietro dopo aver visto cosa possiamo fare con la tecnologia da questo punto di vista per cui flessibilità insperata e utilissima dall'altro ha amplificato ai noi enormemente le minacce di sicurezza non potete neanche immaginare come per lavorare da remoto tantissime persone spesso lasciano virtualmente aperta la porta dell'azienda e altrettanto spesso a quel punto quelle persone non siano più le uniche ad accedere alla propria azienda ai propri sistemi ovviamente il nostro punto di vista e mi riferisco a quello dei tecnici mi riferisco a netesi se hai tanti nostri partner sul territorio è un punto di vista privilegiato dato l'altissimo numero di clienti che giornalmente si relazionano con noi i tecnici riescono ad avere un quadro ampio e dettagliato della situazione quali sono qual è il film che stiamo vivendo in questi mesi noi tutti classico un positivo al covid nell'ufficio tutti a casa in quarantena oppure non so lavoriamo da casa perché tanto con l'accesso da remoto non occorre andare in ufficio non ci sono gli spazi per mantenere le distanze giuste metà dei collaboratori magari lavora da casa insomma in un modo o nell'altro abbiamo imparato che la tecnologia consente di lavorare stando lontani dall'ufficio ok però smart working non è solo l'anno 2020 dello smart working è l'anno dei ransomware proprio per questo motivo quindi la foto idilliaca con il golden retriever che ci lecca la faccia bellissima però il problema è il fai da te il fai da te a volte non paga in questo caso il fai da te nell'edilizia vedete è stato montato il water non troppo in maniera ergonomica rispetto alla carta igienica ci sono un metro e ottanta di distanza quindi ecco qui che vi invito a questo punto a riflettere su come lavorate come gestite il vostro lavoro in azienda perché il fai da te non è la scelta più oculata quando parliamo di sicurezza informatica di rete di dati perché la competenza la professionalità di coloro che scegliete per gestire le infrastrutture tecnologiche devono essere il paradigma delle vostre scelte la vostra bussola su cui orientare il diciamo appunto la vostra scelta improvvisare non paga praticamente mai perché sicuramente per cambiare la batteria del telefono cellulare è sufficiente il nostro cugino mago della tecnologia per far funzionare la stampante a colori c'è l'amico di nostra sorella che dicono sia bravo allora benissimo lo coinvolgiamo ma nel campo della cyber security occorre un know-how molto diverso occorrono studi e percorsi informativi complessi una lunga esperienza costante aggiornamento insomma si tratta di comunque requisiti spesso non soddisfatti dai sedicenti tecnici informatici un estetista che indossa un camice bianco di sicuro sarà abilissima a maneggiare limette frese elettriche forbicine tutto quello che volete ma sono sicuro che non le affidereste mai consapevolmente un intervento per l'appendicite al di là dell'aspetto che può avere ok questo vale ancora di più nell'ambito che stiamo trattando ecco il fai da te nel giardinaggio a volte produce dei disastri in questo settore l'elemento umano è ancora troppo rilevante spesso noi utenti e in questo caso vesto i panni dell'utente smettendo quelli da tecnico siamo da soli davanti al computer con le nostre competenze più o meno elevate con i nostri dubbi e semplicemente con la nostra buona fede a volte mal riposta e non c'è sempre una persona esperta accanto a noi che ci guida nella scelta giusta altre volte nonostante il bietto da visita magari mister informatico SS sicurezza o come diavolo ci si presentano i sedicenti professionisti questi sono davvero tali provi a spegnere e riaccendere quante volte ce l'hanno detto è un consiglio che per quanto in genere per carità funzioni non si addice però a tutti i contesti perché non si addice a tutti i contesti perché perché l'anello della catena in questo caso l'anello debole della catena è l'utente che è vulnerabile per una serie di motivi e quando finiamo quando finiamo di essere per essere vittime di un ransomware e il furto va a segno come vedremo tra un paio di slide polizia carabinieri avvocati non servono a niente quasi mai ho un amico avvocato che ovviamente poco incline alle tecnologie come tutti gli avvocati e non me ne voglia se ce n'è qualcuno presente tra tra coloro che stanno ascoltando il webinar l'anno scorso si è visto rubare l'intero archivio di pratiche dello studio anni di lavoro fondamentalmente e non aveva strumenti per recuperarli allora mi chiama infuriato frastornato davanti all'ipotesi di pagare un bitcoin di riscatto agli hacker che gli avevano portato via i dati comincia a urlarmi tutto il suo disappunto che sarebbe andato infine in fondo alla vicenda mobilitando la polizia postale la magistratura la guardia di finanza via dicendo ho cercato di dissuaderlo dal perdere ulteriore tempo e denaro intraprendendo ovviamente degli eater del tutto inadeguati al tipo di violazione subita spiegandogli che l'indirizzo del wallet è il portafoglio virtuale in questo caso in cui avrebbe dovuto versare la somma richiesta per il riscatto non era in una banca fisica e quindi non era riconducibile a un individuo e comunque la somma richiesta in criptovaluta il bitcoin è una valuta è una criptomoneta virtuale non sarebbe mai stata tracciabile gli ho spiegato che le email usate dagli hacker per prendere contatto con lui e per perpetrare questa violazione non erano registrate a una persona in carne ed ossa rintracciabile e che gli individui dietro a questi reati non si trovavano probabilmente in un luogo del mondo dove la questura di Bologna o il commissarato di Urbino avevano giurisdizione e quindi non li avrebbe comunque mai trovati gli ho fatto gli ho fatto notare poi che trascorso il conto alla rovescia tipicamente 4 giorni 5 giorni dalla avvenuta cifratura gli hacker di turno avrebbero gettato via l'unica chiave esistente per decifrare i dati e a quel punto si sarebbe trattato probabilmente di iniziare per lui una nuova vita professionale dovendo ricostruire fondamentalmente tutto ecco qui entriamo nel merito e guardiamo qualcosa di questo tipo suppongo che un'email del genere e questa l'ha ricevuta una mia amica qualche giorno fa l'abbiate vista più o meno tutti quindi come si diventa vittime di un ransomware lo vediamo in queste slide fondamentalmente e ovviamente vedremo come non diventarlo o come avere un piano B oltre all'ipotesi di pagare somme più o meno rilevanti questa è una mail che è arrivata una mia amica leggiamola un attimo insieme intanto guardiamo da chi proviene accountant chiocciola agenzia dia punto casa però c'è un banner di Vodafone bellissimo come da voi richiesto abbiamo eseguito il passaggio della vostra utenza telefonica dal precedente operatore a Vodafone attivando la promozione Natale con Vodafone in allegato potete trovare l'archivio contenente i dettagli e i costi dell'operazione che verranno adebitati direttamente su Liban quando l'hai fornito mensilmente a parte l'errore di forma nel testo cordiali saluti servizio clienti Vodafone e poi c'è un allegato vedete un bell'allegato qua sotto punto zip ecco a molti di voi è chiaro che questa email ripeto è recentissima 30 novembre questa email ha qualcosa che non torna il problema è che facciamo parte di un banco molto nutrito di pesci e quest'amo rischia di far cliccare qualcuno su quell'allegato e se qualcuno clicca su quell'allegato succede un dramma osserviamo queste icone ne riconoscete immagino qualcuna lasciamo acceso il computer in ufficio con uno dei programmi elencati qui per noi per poterci collegare da casa lavorare comodamente da remoto magari per dare accesso ai tecnici che devono fare assistenza al pc di sicuro tanto via chi non ha usato teamviewer vnc any desk microsoft remote desktop ce ne sono una quantità infinita di programmi analoghi ecco l'importante è che lo facciamo nel modo giusto perché qui una svista o la procedura sbagliata a quel punto non siamo più gli unici ad entrare sul pc dell'ufficio e da lì sui server e su tutta la rete aziendale lavorate così anche voi in questo modo guardiamolo insieme cartelle di rete condivise tutti i file accessibili per qualunque utente tanto siamo una grande famiglia in genere mi dicono così quelli che conosco e che hanno avuto problemi no ma qui ci fidiamo tutti di tutti ci mancherebbe altro così lavoriamo meglio copiate poi magari i dati in cloud ci lavorate anche quando siete fuori dall'ufficio però magari non tutti sanno che le vostre credenziali quelle con cui vi loggate magari sono in vendita nel dark web per pochi dollari dal 2012 su dropbox hanno rubato 68 milioni di account adesso sto premoto se questo destro premoto se questo protocollo non viene configurato bene rappresenta una minaccia gravissima alla sicurezza della vostra rete la porta RDP esposta di internet come ahimè ancora accade spessissimo è certezza di un ransomware è automatico è solo questione di tempo le password facili bellissime le password facili queste sono la top 20 delle password più violate di quest'anno anche voi lavorate in questo modo sapete quanto ci vuole a un hacker per violare una password di 8 numeri niente istantaneo fa prima lui a digitarla a scoprirla che vuoi digitarla oppure una password con 8 lettere minuscole 5 secondi di tempo 8 caratteri misti numeri e caratteri 22 minuti ok quindi quando scegliamo le password facciamolo con magari un occhio di attenzione aggiornamenti avete ancora Windows 7 Windows XP sui computer aggiorniamo con calma tanto non c'è fretta in realtà un sistema vulnerabile se non viene aggiornato è alla merce di qualunque attaccante e non c'è antivirus che tenga in questo caso attenzione è indifendibile oppure non so avete gli ospiti che arrivano in azienda e si devono collegare al wifi e magari gli date l'accesso alla stessa rete del vostro ufficio la password sempre uguale per tutti così è più facile facciamo prima ce la ricordiamo sì sicuramente io ho fatto una domanda la risposta è sì perché moltissimi lo fanno è sbagliato è deleterio è pericolosissimo e adesso lo vediamo che cosa succede questa è una testimonianza molto interessante vi invito a guardarla è un video di pochi minuti anzi di pochi secondi in realtà è una ripresa in diretta cioè o meglio questa è indifferita è avvenuta qualche settimana fa è una testimonianza rara in realtà ripresa non senza una punta di ingenuità diciamo così da un operatore mentre si trovava a passare davanti a un pc lasciato acceso per lavorare da remoto parliamo di un'azienda dove con una novantina di dipendenti c'era necessità di accedere a questo computer dall'esterno e quindi per comodità è stato installato uno dei programmini che abbiamo visto prima nella slide precedente e è stato lasciato attivo senza alcune contromisure necessarie ed ecco che cosa succede in questo caso in pratica quello che vedete è quello che l'utente si è accorto che stava succedendo sul suo computer peccato che non era lui a farlo cioè lui si è trovato a passare davanti a un pc acceso e ha visto che qualcuno stava facendo quello che vedete nel video e ha pensato bene di registrarlo ha detto magari può essere utile fare questo filmato per capire poi per parlare con i tecnici e farci dire che cosa sta succedendo ma di fatto quello che voi state vedendo è un hacker che è entrato sul sistema in questione e che sta girando allegramente nel sistema alla ricerca di archivi e contenuti da criptografare questo è un puro caso il fatto che ci sia questo filmato ok assolutamente un puro caso e ovviamente nel fare questo viaggio all'interno della rete ha trovato tutta una serie di cartelle di archivi di documenti vedete come li apre uno per uno per guardare dove lanciare il ransomware e che cosa criptografare ebbene terminata questa attività adesso ve la risparmi insomma perché poi quello che mi premeva era farvi capire che cosa sta facendo la persona che ha avuto accesso al sistema sta andando in giro e sta cercando cosa criptografare e una volta che lo ha trovato lancia una procedura che rende i dati inservibili vedete come esplora tutta la rete come va la ricerca di contenuti da rendere inservibili da rubare terminata l'attività adesso io ve la risparmio vedete sta proprio cercando quali sono gli archivi giusti e quando trova qualcosa poi ovviamente opera il furto opera quello che deve fare quindi questa è una testimonianza rara insomma di quello che accade in questi casi e scusatemi ecco che cosa succede alla fine di questo processo alla fine di questo processo del quale ovviamente l'utente non si avvede nel senso non è che vi accorgete che sta succedendo qualcosa quasi mai ve ne accorgete cioè vi comparirà questa schermata tipicamente quando poi il processo di cifratura dei dati quindi di furto è completato a questo punto il virus ha reso ogni dato raggiungibile in rete del tutto inservibile le migliaia di file sono tutte lì dove erano prima nelle stesse cartelle ma il nome di ciascun file ora presenta un nuovo suffisso un'estensione che prima non c'era quindi la fattura 145.pdf adesso si chiama fattura 145.pdf.crypt o qualcosa di simile ok poi ogni variante di virus ha i propri suffissi il punto è semplicemente che io ho tutti i miei dati lì dove erano prima li vedo ma non posso farci più niente non li posso più aprire non li posso più leggere fin tanto che non avrò preso contatti nella modalità che mi sarà stata indicata dall'hacker nel messaggio che vedete qui sotto e fin tanto che non avrò pagato eventualmente quella somma che lui ci chiederà per restituirci quello che ha rubato e queste somme sono variabili molto variabili dipende dal tipo di attacco che abbiamo subito dalla quantità di dati che ci sono stati sottratti poi lì si va al buon cuore del delinquente dell'hacker e si parla di cifre che vanno dai 700 euro ai 2 milioni e mezzo di euro ok dipende da che cosa hanno trovato e dalla quantità di dati rubati quello che ci interessa è vedere il testo di questo messaggio tutti i tuoi file sono stati criptografati con l'apt ransomware versione bla 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 eccetera eccetera ai 5 giorni per fare il pagamento in bitcoin ok altrimenti abbiamo cifrato i tuoi dati con un algoritmo RSI a 4096 bit e significa per i non addetti ai lavori che questo tu non lo decifrerai mai a meno che non ci paghi un bitcoin vedi vedete manda un bitcoin a questo indirizzo questo è l'indirizzo di un portafogli virtuale non è però è una sorta di IBAN chiamiamolo così ma molto diverso quello che paghiamo qui non nessuno saprà mai che fine ha fatto non è tracciabile e un bitcoin per chi non lo sapesse 4 anni fa valeva 30 dollari oggi vale 16.000 euro quindi se io lo prendo adesso per esempio questo ransomware questo bitcoin mi costa 16.000 euro prima parlavo di ransomware e di stazioni dei treni avevo fatto l'esempio esagerato stazioni dei treni che si bloccano esagerato per niente questa è una foto del 2017 un ransomware famoso noto come WannaCry nel 2017 ha bloccato mezzo mondo fondamentalmente questo è un cartellone della stazione dei treni di una città tedesca e all'improvviso sullo schermo dei binari compare questa schermata che dice ti abbiamo crittografato tutto adesso paga oppure non funzionerà più niente ovviamente quando gli utenti sui binari hanno visto questa roba qua non è che hanno capito che cosa fosse successo evidentemente ok i tecnici che avevano in mano invece l'infrastruttura hanno pianto probabilmente queste sono delle finestre diciamo diverse di virus diversi ma il cui effetto è sempre identico vedete è un altro un altro nome che ti dice dopo aver fatto la cifratura abbiamo rubato tutto se vuoi indietro i tuoi dati versaci su questo indirizzo due bitcoin in questo caso due bitcoin vedete qua sotto sono 30.000 euro non si parla di fare un bonifico su un conto corrente di banca intesa o di fine eco questi sono bitcoin quindi si tratta di moneta virtuale da versare su wallet con indirizzi specifici che corrispondono come dicevo a una sorta di conto corrente ma non tracciabili ogni tanto mi capita di sentire le vittime di questi virus magari reagire stizziti io vado dall'avvocato li denuncio tutti vado alla polizia postale è inaccettabile però ahimè si tratta di approcci non applicabili ad un mondo dove in realtà il malvivente si trova dall'altra parte del mondo nessuno sa dove o magari anche nell'ufficio accanto e dove come dicevo prima la questura magari ha scarsa giurisdizione ammesso che trovi la persona responsabile dell'attacco stesso discorso un'altra schermata un altro un altro messaggio di richiesta di pagamento questo diventa interessante un amico mio caro amico ha dovuto pagare di recente un riscatto e mi ha chiesto ovviamente aiuto per interloquire con gli hacker dato che non sapeva come fare non aveva modo di ritrovare i suoi dati e quindi ha deciso di effettuare il pagamento decidendo che sarebbe stato il male minore per lui vista l'entità altrimenti dei dati diciamo altrimenti persi e in questa mail che adesso vi leggo ci sono degli spunti molto interessanti per capire che cosa succede perché è lo stesso hacker a cui io ho scritto per chiedergli se potevamo trattare la cifra per inciso questa email è proprio mia questo è un mio indirizzo personale che uso per le stupidaggini e questo è l'indirizzo dell'hacker che abbiamo dovuto contattare chiaramente su domini assolutamente non riconducibili a qualcuno in particolare io gli ho scritto all'inizialmente cosa devo fare per avere indietro i miei dati e lui ovviamente mi ha risposto poi dopo una trattativa durata un paio d'ore abbiamo deciso che era il caso di pagare abbiamo stabilito come fare il pagamento e lui mi dice tutto ok avrai le chiavi mantengo la mia parola l'amministratore arriva arriverà lui si riferisce al suo capo quindi è questa persona con cui io parlo si riferisce all'amministratore come al suo capo che arriverà gli darà le chiavi e lui le spedirà a me le chiavi di decifratura quindi mi dice per favore aspetta grazie per la tua cooperazione e per il futuro scegli delle password più sicure per i tuoi dati quindi oltre al danno la beffa cioè ci prende in giro ma ci fa notare che il gioco per lui è stato facile perché le password scelte per proteggere la rete erano banali ok questo è molto interessante e continua lo scambio vi dicevo che si tratta di un'industria che è alla ricerca di personale che assume lavoratori non sto scherzando penso è sempre l'hacker che parla con me penso che in un'ora o due ti potremo mandare le chiavi di decretazione non preoccuparti tutto andrà bene ascolta mi dice listen lavori in un ufficio non vuoi guadagnare qualche soldo in più cioè mi stanno proponendo di lavorare ok perché io gli avevo chiesto vedete qui sotto quanto devo aspettare per avere le chiavi visto che ancora abbiamo pagato e non le abbiamo avute e lui mi dice tranquillo te le mandiamo in un paio d'ore ma ascolta lavori in un ufficio per caso vuoi guadagnare qualche soldo in più e io gli dico sì gli ho risposto lavoro in un ufficio ma voglio solo le chiavi per recuperare i dati ho bisogno di lavorare su questi dati nei prossimi giorni che altro vuoi offrirmi e lui mi risponde ti darò le chiavi non preoccuparti ma per caso hai accesso ad altri pc vedete questo è proprio un recruitment mi sta chiedendo se voglio guadagnare soldi facendo quello che fa lui rubando dati è interessante a mio avviso è molto interessante e ovviamente dopo che ho declinato l'offerta di lavoro ecco che mi arriva la chiave questa è l'ultima email che mi ha mandato con la chiave di cifratura inserendo questa chiave nel programmino di decifratura abbiamo riottenuto i dati che erano stati sottratti diciamo che abbiamo riottenuto il 90% dei dati perché una parte è risultata danneggiata c'è stato qualche effetto collaterale nel processo di cifratura quindi si sono proprio danneggiati e quindi qualcosa comunque è andato perso nonostante il pagamento gli attacchi mirati gli attacchi mirati rischiano di avere delle richieste di riscatto terrificanti questa è la Bonfiglioli di Bologna credo 2 milioni e mezzo di euro di richiesta di riscatto mi pare di ricordare che l'azienda abbia deciso di non pagare un riscatto del genere ma sono stati fermi 7 giorni un'azienda comunque che fa produzione un fermo di 7 giorni fate voi le vostre valutazioni su che cosa significa rimanere bloccati senza poter spedire o lavorare o o altro velocemente qualche numero fonti Unione Europea potete andare a verificare 10 miliardi di euro di pagamento e riscati nel 2019 quest'anno siamo arrivati credo già a 20 miliardi 3 miliardi di euro in più rispetto al 2018 365% di rilevamenti di ransomware nelle aziende 66% delle organizzazioni ha subito un attacco il 45% delle organizzazioni attaccate ha pagato il riscatto e dei paganti circa la metà dichiara di aver comunque perso dei dati il 28% quindi un terzo di questi incidenti è attribuibile a malware il ransomware è la seconda minaccia più comune e rappresenta come dicevo un terzo del totale quelli che hanno la mia età si ricorderanno probabilmente l'aereo più pazzo del mondo quindi mi auguro di aver disegnato fino a qui uno scenario sufficientemente allarmante dato che credo che il primo passo per risolvere un problema sia in genere sapere di averlo vediamo a questo punto come fare per cercare di dormire un po' più sereni e rendere magari difficile la vita a chi vorrebbe veder crescere il proprio conto in bitcoin a nostre spese perché ovviamente le soluzioni ci sono per inciso non esiste la garanzia e la certezza assoluta che un determinato tipo di attacco non vada a buon fine o che un virus non vi colpisca mai e in nessun caso per definizione se un sistema è collegato a internet è un sistema vulnerabile non a caso le basi di lancio dei missili nucleari statunitensi non lavorano collegate alla rete internet ma lavorano con i cavi di rame con le persone che attaccano i cavetti e gli spinotti li privilegiano le comunicazioni analogiche perché se un sistema è in rete per quanto inviolabile sia può in qualche modo correre il rischio di essere violato però è pur vero che noi non viviamo in quel contesto noi viviamo collegati a internet noi viviamo di dati e allora cerchiamo di rendere la vita difficile e cerchiamo di far sì di avere tutti un piano B qualora dovesse succedere qualsiasi cosa e allora quali sono le regole fondamentali da tenere in considerazione per far fronte a questo genere di minaccia in prima battuta formare gli utenti le tecnologie informatiche cambiano velocissimamente lo vedete ovviamente le minacce alle tecnologie informatiche cambiano ancora più velocemente e cambiano i modi per prevenire le minacce informatiche quindi formazione per approfondire gli argomenti partecipando a webinar come questo leggendo documentazione tecnica per coloro che hanno il compito di farlo interpellare i referenti tecnici adeguati rivolgervi alle persone giuste è vitale è vitale troppo spesso mi capita di tra virgolette vedere i danni fatti da una gestione poco accorta tecnici che trascurano magari cose banali come evitare di esporre a internet le porte per il desktop premoto di windows è un errore molto molto grave bisogna fare attenzione a queste cose ovviamente da utenti dobbiamo cercare di interloquire con persone che abbiano un certo grado di competenza difendere la nostra rete con un firewall un firewall UTM è un acronimo Unified Treatment Management è vero che non esistono scatole magiche ok non ci sono scatole magiche che ci difendono che messe lì e dimenticate fanno il lavoro per noi ma è pur vero che c'è una differenza enorme tra una porta blindata con la guardia giurata all'ingresso e una porta spalancata con un cartello prego si accomodi cioè tra questi due estremi c'è una serie di sfumature abbastanza rilevanti quindi un firewall è un elemento imprescindibile monitorare i sistemi informatici è importantissimo un sistema automatico di controllo dello stato delle copie di backup delle condizioni operative dei server magari dell'integrità e della consistenza delle copie dello stato delle vostre linee aggiornare i software un software obsoleto fuori supporto è male per definizione è sbagliato ok oltre un certo livello di vetustà tecnologica il sistema diventa indifendibile io quante volte sento clienti amici conoscenti che mi dicono no ma io ho Windows 7 no ma io ho Windows XP ma tanto funziona ma ancora va tanto bene ma per le mie esigenze tutto sommato ok e ovviamente mi viene la pelle d'oca perché perché sono persone che non hanno un'idea dei rischi che corrono perché non sanno che cosa succede quando un sistema diventa bucabile fondamentalmente quindi backup automatici devono essere tassativamente automatizzati verificati e non accessibili non accessibili un backup non deve mai o almeno uno dei backup non deve mai poter essere raggiunto dai computer degli utenti perché se io ho un sistema ho un archivio dati e faccio un backup di quei dati in una cartella in rete e posso raggiungerla quella cartella non ho risolto niente se prendo un ransomware quel ransomware mi va a criptografare pure il backup ok e se succede una cosa del genere non resta che pagare fondamentalmente usiamo tecnologie ridondate con una tolleranza all'errore quantomeno posso permettermi di fermare il lavoro tanto più devo investire in una tecnologia che sia capace di essere resiliente termine che va tanto di moda in questi anni resiliente contro ogni tipo di avversità informatica e tecnologica adottare dei sistemi di controllo delle attività di rete sapere per un per un tecnico o anche per un amministratore sapere chi è che salva un file chi lo modifica quando lo ha fatto da quale indirizzo IP permette di intercettare facilmente il computer compromesso in rete quello da cui magari è partita l'azione di cifratura in modo da poterlo scollegare subito dalla rete e ripulirlo concentrarsi su quello salvando magari il resto dell'azienda invece tante volte non sappiamo niente perché perché gli utenti accedono tutti come amministratori gli utenti sono sempre gli stessi si chiamano tutti allo stesso modo e quindi quando io vado a vedere chi ha scritto chi ha crittografato un dato mi risulta che lo abbia fatto admin ma admin ce ne ho 30 nell'azienda 10 siamo noi regolare l'uso delle risorse aziendali delle connessioni l'assenza di controllo di limiti di regole sulla navigazione internet per esempio è deleteria aumenta enormemente il rischio che l'utente vada e clicchi dove non deve un firewall per esempio visto che parlavamo di firewall può essere usato per filtrare il traffico per giudicarlo e consentirlo o bloccarlo quindi cerchiamo di limitare la fallibilità umana ok cerchiamo di delegare a una macchina che non soffre di certe logiche la capacità di discernere cosa è giusto e che cosa è sbagliato per quanto poi il fattore umano sia sempre fondamentale da cui la formazione tassativa è necessaria gestiamo i permessi degli utenti sui sistemi informatici e sui dati tutti gli utenti possono fare tutto su qualsiasi archivio è un classico è un classico ed è letale semplicemente occorre invece che il server e che l'amministratore detti le regole e imponga i limiti in funzione dei ruoli e delle credenziali usate per accedere ai sistemi il domain controller avete sentito questo nome questo termine usiamolo ok imponiamo dei limiti regolamentiamo perché perché la sicurezza è un processo aziendale non è un prodotto non è una scatolina che vi mette al sicuro non esistono come dicevo dei sistemi inviolabili la sicurezza ha sempre un costo la sicurezza gratis non c'è la mancanza di sicurezza ha un costo molto molto più alto quando avviene una violazione e ritengo che l'investimento in sicurezza a vari livelli dovrebbe essere ovviamente proporzionale al valore dei dati che abbiamo a cuore e che trattiamo e che gestiamo ed ecco che concludo la presentazione le ultime due o tre slide parliamo di cyber threat intelligence qualche termine tecnico ogni tanto è carino perché la tecnologia evolve per far fronte alle minacce attuali esistono dei sistemi di analisi che fanno per esempio tesoro dell'esperienza collettiva semplificando in maniera estrema ok ripeto il target di questo webinar era l'utente finale è l'utente finale ricevo un'email con un link ad un sito strano beh se qualcuno magari lo ha già fatto dall'altra parte del mondo o magari a 5 km dal mio ufficio e magari ha già scoperto che si trattava di un sito malevolo o di un link pericoloso io posso approfittare di quell'esperienza lo può fare il firewall ovviamente che prima di farmi aprire quel link di farmi raggiungere quel sito o di farmi vedere quel contenuto può interrogare delle liste degli archivi creati e aggiornati ogni istante a livello sia locale che internazionale e a quel punto decide se si tratta di un link pericoloso o meno e farmi passare o frenarmi prima che io ci arrivi siamo quasi 5 miliardi di persone connesse ad internet ok e come ho scritto nella slide 4 miliardi is make a one c'era una pubblicità qualche anno fa che diceva two is make a one mi pare e poi ci sono le sandbox mutuando sempre dall'inglese questi termini le sandbox questi recinti di sabbia dove si mettono i bimbi e gli si dice buttatevi lì spaccate tutto fate tutto quello che volete tanto non vi potete fare male che comunque lì potete giocare e fare confusione tranquilli e sereni bene questo termine nell'ambito della protezione dai cyber risk è uno strumento che ci consente di proteggerci dalle minacce cosiddette zero day zero day significa che magari l'antivirus non riconosce una minaccia in tutti i casi perché l'antivirus in genere ha un meccanismo di funzionamento per cui o ha scaricato un aggiornamento recente nel quale aggiornamento era presente la firma di un virus appena uscito e a quel punto l'antivirus è capace di riconoscerlo ma se questo non è avvenuto l'antivirus non riconosce il virus e lo fa passare quasi sempre allora qual è l'evoluzione in questo caso bene un sistema di sandbox quindi mi arriva un'email con un allegato ok allora io faccio in modo o meglio il mio sistema informatico il mio sistema di protezione fa in modo di fare aprire quest'allegato in un sistema in una sandbox quindi in un sistema virtuale che tiene conto del comportamento sospetto quindi prendo l'allegato lo inserisco non lo faccio io a mano lo fa un sistema automatico ovviamente lo fa il nostro firewall lo inserisce in una serie di ambienti virtuali in cloud in cui questo allegato sospetto viene trasportato aperto eseguito come se fossimo noi a farlo sul nostro computer ma in una stanza in un sistema virtuale dove qualsiasi conseguenza di quel click non ha effetto se non quello di consentire un esame del comportamento del file quindi a questo punto eseguo quel file in molti contesti diversi in tanti sistemi diversi in molti ambienti differenti e mi accorgo se si comporta correttamente o in modo malevolo a quel punto lo faccio passare o lo intercetto e lo blocco e siamo salvi facciamo fare ad un ambiente virtuale quello che avremmo fatto noi sul nostro computer solo che se lo facciamo noi sul nostro computer e quello è un malware abbiamo fatto un danno invece qui può succedere qualsiasi cosa e a noi non interessa concludo dicendo che nessun sistema di sicurezza è migliore di un utente altamente formato e competente ovviamente la consapevolezza di ciò che facciamo davanti al computer e l'esperienza in questi casi aiutano a discernere tra le centinaia di minacce che ci assediano ogni giorno ma il problema è che acquisire queste capacità richiede un'applicazione costante studi specifici un'esperienza quotidiana anni fondamentalmente di percorso formativo quindi adottiamo il dubbio come paradigma nell'approccio alle comunicazioni informatiche dubitiamo di tutto cerchiamo di avere paura prima di fare click ok perché la consapevolezza da questo punto di vista è un ottimo punto di partenza e qui questa slide passata me l'ha visto che vanno di moda i monoliti di questi giorni ma qui c'è il maestro Kubrick che ci ha deliziato con questo capolavoro qualche anno fa e dopo la consapevolezza gli strumenti giusti investiamo allora nei servizi gli strumenti adeguati affidiamoci a persone che abbiano una provata competenza ok che ci sappiano guidare in un processo costante di innalzamento delle difese perché le scelte operative procedurali organizzative che voi compite dovrebbero sempre essere oggetto di un confronto con un consulente che vi sappia indirizzare che sappia vedere oltre magari il foglio di un contratto con l'operatore telefonico nuovo con l'azienda Y l'aspetto consulenziale non deve mai essere trascurato quando si ignorano completamente le conseguenze pratiche di un'opzione o di una scelta ok tipicamente questo si traduce nella perdita dei dati spesso quindi diamo valore ai dati che trattiamo e anche ai professionisti che ci aiutano a custodirli nel modo migliore e adesso io ho concluso spazio alle domande se ci sono domande se ci sono considerazioni da fare vi ascolto qualche minuto magari in chat molto volentieri non so se Federica scusami sono rientrato in in stanza sì ho ancora lo schermo condiviso o mi vedete non hai più lo schermo condiviso ok allora vediamo un po' diamo un'occhiata alla chat hai terrorizzato tutti Giorgio bene era fondamentalmente la mia intenzione bisogna avere paura di di una di una minaccia no gli psicologi dicono che è fondamentale che un bambino metta la mano sul fuoco quando è piccolo perché una volta che l'ha fatto non lo fa più allora l'idea era far crescere un po' questo timore perché è importante temere qualcosa che potenzialmente rappresenta un rischio io ti vedo ora no quindi non mi si vede non sono in webcam sì ti vediamo correttamente ah perfetto ok confermo la chiarezza è possibile avere le slide del corso giusto per mandarle a qualche cliente che non capisce l'importanza della cyber security ma suppongo di sì presumo che questo webinar sia stato registrato anche quindi poi magari confrontatevi con con Federica per le questioni più squisitamente marketing oltre a prevenire tramite firewall avete pensato all'utilizzo di formattazione ZFS Eric sì però non è questo il contesto adeguato per diciamo scendere nel merito tecnico come ti dicevo è un webinar diciamo destinato più che altro alla divulgazione ok magari affrontiamo questo genere di argomenti in un altro in un altro momento lei ci ha detto che le password a otto numeri vengono decifrate immediatamente non trova quantomeno buffo che i sistemi di home banking speed up lo facciano impostare una password word una password a sei cifre non è che lo trovo buffo lo trovo terribile lo so lo so bene poi è chiaro che ci sono le autenticazioni a due fattori in certi casi però sì ci sono dei rischi enormi dal punto di vista della leggerezza con cui vengono scelte le password e anche con cui chi offre i servizi consente password banali assolutamente sì è terribile quale antivirus consiglia beh intanto un antivirus di sicuro sugli end point il punto debole è il computer quindi un antivirus di sicuro quale dipende da molti fattori dipende dalle caratteristiche della macchina dalla potenza di calcolo che ha sicuramente un antivirus e ovviamente il punto il punto è cercare però di limitare il rischio e quindi evitare che sia l'antivirus a doversi sobbarcare il compito di come dire l'ultimo baluardo è l'antivirus ma noi dovremmo cercare di far sì che l'allegato infetto non arrivi a dover essere esaminato dall'antivirus dovremmo bloccarlo a monte della nostra rete quindi il mio consiglio è quello di utilizzare degli strumenti di trait intelligence quindi qualcosa che filtri a monte questi ransomware possono attivarsi con un delay vediamo Rudy con un delay quindi rendendo inefficace un backup a breve periodo sì sì possono tranquillamente attivarsi anche con un delay ovviamente però nelle policy di backup noi avremo sempre uno storico di almeno un paio di settimane e avremo più di un backup ci sono sistemi che supportano i backup multipli quindi abbiamo un backup locale magari tra virgolette a breve termine e poi abbiamo magari dei backup in cloud con uno storico più ampio possiamo diversificarli quindi le policy di backup devono tenere conto di tutti questi aspetti tutto molto chiaro eccetera eccetera vediamo se c'è qualche altra domanda il rischio dell'utilizzazione dei fattori che ho dovuto a mio padre anche l'ackeraggio della sim è facilissimo sì assolutamente sì ma sapete quante ne abbiamo viste di tutti i colori però ecco vorrei dirvi ci sono delle situazioni anche molto più banali si lavora da remoto bene arriva il tecnico espone la porta 3389 del router verso internet così la raggiungiamo dall'esterno è finita lì vale tutto quel punto state pensando di mettere a listino delle soluzioni per il backup oddio credo ci siano già però poi magari di questo parlatene con i vostri referenti commerciali quale strumento oltre al firewall è consigliato per lo smart working ce ne sono tanti e su più livelli di sicuro sono tutti relativi al tipo di lavoro che facciamo da remoto ok quindi a seconda del modo con cui ci dobbiamo collegare alla nostra rete dell'ufficio dell'azienda perché anche questi sono tanti modi diversi non sono tutti uguali i modi con cui noi ci colleghiamo alla rete dell'ufficio a seconda di quello che dobbiamo fare e mi rivolgo ad Anna Rita è necessario adottare delle misure adeguate di configurazione per quella modalità specifica quindi il firewall è fondamentale è fondamentale che il firewall abbia alcune funzionalità attive e configurate quando parlavo di treat intelligence si tratta di servizi che vanno evidentemente attivati sul firewall di base non è detto che il firewall faccia quel tipo di lavoro e poi per esempio se lavoriamo con il desktop remoto di windows di sicuro mi viene da dire passare attraverso una vpn è importantissimo invece che collegarsi direttamente a una porta aperta sul router noi per sicurezza abbiamo criptato il file all'interno del server dati sensibili così nel caso in cui venissimo anche dati almeno questi file non sarebbero sottratti ok oddio in verità dipende attenzione adesso non voglio scendere qui nel merito però bisogna capire come è stata fatta questa attività di cifratura perché poi in verità il ransomware a sua volta potrebbe criptografare dei dati già cifrati se il client che viene compromesso aveva accesso in chiaro a quei dati quindi vabbè su questo poi magari non è questo il momento giusto per affrontare il discorso è una sicurezza in più sì ma in questo caso possono leggere possono diffondere nel dark web no non ho capito l'affermazione di Mauro nel dark web comunque mi viene in mente una cosa io mi sono preso vi dico questo mi sono preso la libertà di andare a dare un'occhiata alle email con cui vi siete iscritti a questo webinar ora siete un centinaio di persone io prima di collegarmi al webinar ho preso una ventina di email tra le 160 che sono arrivate e ho fatto un paio di verifiche veloci alla portata di qualunque tecnico beh il 40% di quelle email è già stata violata magari i titolari di quelle caselle non lo sanno ma il rischio è che le password di quegli account siano appunto in vendita nel dark web e magari il fatto che non sia ancora successo niente è solo figlio del mancanza di tempo o di volontà del hacker di turno quindi fate attenzione anche a questo se non avete cambiato la vostra password negli ultimi mesi ed ecco il motivo per cui le password vanno cambiate periodicamente fatelo perché potreste anche non saperlo ma magari il vostro account di posta è in vendita dal 2012 nel dark web e vi assicuro che sono cose assolutamente dimostrabili ci è capitato di fare una dimostrazione a una serie di clienti reperendo le loro informazioni su internet e chiedendogli se per caso la loro password fosse tizio sempronio o caio e sono emerse delle scene insomma abbastanza inquietanti quindi cambiate le vostre password spesso e volentieri e soprattutto non utilizzate la stessa password per tutti i vostri servizi non fatelo perché è sufficiente un data breach in un database con quelle credenziali a quel punto se voi avete quella password per tutti i vostri servizi è molto male lo capite da soli ok dunque mandaci l'elenco Anna Rita mandaci l'elenco di cosa Anna Rita magari se me lo chatti perché non ho capito a quale elenco ti riferisci delle mail che ho trovato violate ok magari poi appena ho un po' di tempo vi mando delle informazioni su questo un client collegato in WPN Road Warrior Alessandro vorrei magari evitiamo il troppo tecnico lo affrontiamo in separata sede non è non è questo il diciamo la sede adeguata come possiamo dimostrare ai clienti che potrebbero essere in vendita dobbiamo cercarle nel dark web no cercarle nel dark web rischia di essere abbastanza complicato però sì per esempio c'è Christian Pattaro che ha linkato un motore di ricerca accessibile al pubblico have I been found dove basta inserire un indirizzo e vedere se quell'indirizzo risulta in qualche data breach famoso recente o datato che sia e lì si scoprono delle cose molto interessanti grazie backup di net service fatto su NAS con un app sempre nella rete interna offre una protezione minima adeguata o converebbe optare anche per un backup interno all'azienda conviene diversificarli il backup di net service sicuramente è importante ma farne più di uno farli su più supporti diversi su più destinazioni diverse e magari se la connessione della la connettività dati dell'azienda del cliente lo permette anche fare i backup in cloud ok visto che su net service possono essere automatizzati i backup in cloud ed è molto comodo vedo che siamo ancora 91 persone collegate mi fa piacere non so se ci sono altre altre domande qualche curiosità oppure direi che possiamo anche chiuderla qui poi magari eh se ci sono come dire questioni che vi va di approfondire eh sentiamoci contattiamoci tramite magari Federica ai canali del del marketing o direttamente personalmente possiamo tranquillamente andare a come dire rivedere alcuni concetti e capire quali sono le best best practice per far fronte a questo tipo di situazioni ok allora ecco l'ultimo messaggio grazie Alessandro molto chiaro app ah ok Enrico quasi certamente grazie a tutti grazie Paolo grazie grazie a voi grazie a tutti